La SLA è una malattia rara, la sua causa è sconosciuta e in circa il 5-10% dei casi è di natura ereditaria. Non esiste ancora una cura per prevenire o bloccare questa patologia fatale. L'incidenza globale è di circa 1,7 casi per 100.000 persone l'anno, con 1.000 nuovi casi l'anno in Italia. La prevalenza globale è attualmente stimata intorno ai 200.000-300.000 casi, circa 5.000 nel nostro paese. A Napoli, al Monaldi, il centro Nemo attualmente ha in cura circa 300 persone, tra queste anche dei pazienti pediatrici affetti da patologie neuromuscolari e neurodegenerative, appunto come la SLA, o da distrofie muscolari e atrofia muscolare spinale come la SMA. Il dottore Salvatore Don Giovanni ci spiega come opera il centro. Ci occupiamo con 23 letti che sono situati all'interno dell'ospedale Monaldi dell'azienda Dei Colli, di questo tipo di pazienti che sono comunque pazienti che rientrano nell'ambito di malattie rare, pazienti estremamente fragili e complessi dal punto di vista della presa in carico medica. Spesso la diagnosi è legata a un peggioramento progressivo. Per essere vicini a questi pazienti e per aiutare e sostenere il progetto Nemo, questa mattina è stato firmato un protocollo d'intesa tra il gruppo, le due torri amministrato da Salvio Passariello e il centro coordinato da Francesco Lettieri. La collaborazione si espletterà attraverso la realizzazione di piatti speciali già presenti dal 1 dicembre in tutte le attività ristorative del gruppo e una parte del ricavato sarà devoluto al progetto Il Gusto della Vita al centro clinico Nemo che ha l'obiettivo di supportare il percorso di cura e riabilitazione dei pazienti. In ogni ristorante del gruppo Le Due Torri è presente un piatto speciale, il piatto Nemo. Un grande progetto a cui non potevamo tirarci indietro, anzi da quando il gruppo è impegnato nel sociale abbiamo avuto la fortuna di incontrare una persona che ci ha avvicinato a questo meraviglioso progetto e non potevamo che appunto contribuire con la nostra parte. A parte delle donazioni per noi è importante per sviluppare progetti come il Nemo Lab ad esempio che prende in carico in maniera ancora più completa se vogliamo le persone affette da malattie neuromuscolari. Quindi diciamo che veramente i fondi non bastano mai e in questo caso inoltre affiancarci ad una realtà che è presente nelle città di Roma e di Napoli ci permette anche di raccontare la vicinanza del territorio con i centri clinici che il territorio stesso ospita.